Una formazione qualificata per contrastare la piaga degli infortuni sul lavoro in agricoltura causati molto spesso dal ribaltamento dei trattori. È l'obiettivo del corso pilota presentato nella sede della Presidenza della Regione Toscana a Firenze rivolto ai formatori stessi che operano nel settore delle macchine agricole e realizzato oltre che dalla Regione da INAI, l'Università di Firenze, Accademia dei Georgofili e Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Toscani. Formare i formatori, obbligare a corsi di formazione che durano 48 ore spiegare bene quali sono gli aspetti della pericolosità e come certi mezzi devono essere usati in sicurezza io credo che è un salto in avanti molto importante che deve dare certezza e io dico anche dignità a questo tipo di lavoro. Tra le ragioni dell'alta incidenza di incidenti anche mortali causati dai trattori c'è la conformazione quasi interamente montana e collinare della Toscana che conta solo il 7% di pianura. Da qui la necessità di una formazione spesso data per scontata da chi usa le macchine agricole. Si tratta di una formazione di alta qualificazione che secondo noi mancava a questo livello in quanto già per accedere al corso i partecipanti devono già avere un curriculum formativo importante che può poi portare una volta ottenuto il diploma a fare formazione a cascata verso tutto il mondo agricolo. La formazione è quella che può dare, può capitalizzare l'esperienza sui rischi che abbiamo e su come gestire i rischi e deve essere diffusa. Il corso, rivolto ai formatori selezionati dalle diverse organizzazioni professionali agricole prevede un lavoro sul campo con l'impiego di trattori e macchinari. Si parte da professionisti, da tecnici che hanno già una preparazione di base sul tema della sicurezza nell'uso delle macchine e quindi hanno un'abilitazione, hanno dell'esperienza nella docenza, hanno esperienza nella guida del trattore ma si fa il salto ulteriore che è quello di sapere gestire anche situazioni critiche nell'uso delle macchine. Grazie. 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 Grazie.